Ecco le mancanze. Questa vuole un'islazione. Ma devo scegliere il sangue. Ma devo fare un sangue. Le mancanze. Ma non ho preso. Ma voglio... ...e il sangue. Non ho preso un sangue. Ma non ho preso. Ma non ho preso. Ma non ho preso. E' un sangue. Ma non ho preso. Sì Sì Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.